Il Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione riunisce oltre 70 docenti appartenenti a tre macro aree disciplinari, quella artistico-letteraria, quella storico-filosofica e quella sociologico-comunicativa. Negli ultimi anni il Dipartimento ha reclutato molti giovani studiosi che ne hanno accresciuto ulteriormente la vivacità culturale ed esteso l'ambito delle discipline oggetto di ricerca e formazione. I corsi di studio afferenti al Dipartimento sono otto, tre di laurea triennale, Lettere, Filosofia e Scienze della Comunicazione, e cinque di laurea magistrale, Culture Umanistiche, Filosofia, Scienze e Società, Comunicazione, Informazione ed Editoria, a cui si sono aggiunti da quest'anno, il 2023-2024, il corso di laurea magistrale in valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e Philosophical Knowledge, Foundations, Methods, Applications. I corsi di laurea triennale offrono una solida formazione di base nelle aree disciplinari precedentemente citate. Di questi sono Scienze della Comunicazione a numero programmato. Mentre Culture Umanistiche, Filosofia, Scienze e Società e Comunicazione, Informazione ed Editoria sono l'ideale complemento dei corrispettivi corsi di laurea triennale, i due corsi di laurea magistrale di recente istituzione vanno nella direzione di impartire una formazione più specialistica e di rafforzare la vocazione internazionale del Dipartimento. Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale è un corso di laurea interclasse, che prevede cioè la possibilità di laurearsi o nella classe LM5, classe di laurea in archivistica, o nella classe LM92, classe di laurea in teoria della comunicazione. Come funziona? Il primo anno è comune due percorsi, nel secondo lo studente sceglie la classe in cui intende laurearsi. In un percorso, quello di LM5, forma più uno specialista della conservazione e organizzazione dei patrimoni culturali, museali, archivistici, librali. L'altro percorso, LM92, forma più uno specialista nella comunicazione al pubblico dei patrimoni. Infine, il corso in philosophical knowledge interateneo è derogato totalmente in lingue blese dall'Università di Bergamo, la scuola universitaria di studi superiori di Pavia e l'Università di Pavia. È caratterizzato da un'enfasi sulla dimensione applicativa della conoscenza filosofica e dei suoi metodi, sulla base del convincimento che i diversi modelli di razionalità, gli strumenti di analisi concettuale e le tecniche di argomentazione razionale svolgono e svolgeranno sempre di più un ruolo centrale nei processi decisionali e di problem solving in diversi ambiti. Il corso ha una forte connotazione scientifica, con particolare enfasi sulle più recenti acquisizioni dell'intelligenza artificiale. Grazie a tutti!